Il Cesena stecca completamente l'approccio alla gara di Carpi e finisce col pagare Dazio con una sconfitta che restituisce ai bianconeri, l'ultimo posto in solitario. Alcabassi, Castori è accolto come un re, il Cesena invece è salutato con la combinazione Mbakogu, Verna, Nzolà e Jelenic che permette agli emiliani di passare in vantaggio dopo appena due minuti di gioco. Tutti fermi nella difesa bianconera, come sulla conclusione alta di Mbakogu o sulla battuta secca di Jelenic con Agliardi a dire di no. Al quattordicesimo però è ancora Mbakogu a seminare il terrore sulla sinistra. Saltato origione, assist per Nzolà che cicca la battuta, non così Jelenic che sigla la doppietta con un gol in fotocopia rispetto al primo. La reazione del Cesena si sostanzia con la battuta di Conè su cui è in ritardo Iallo con un tiro cross del Gambiano che tocca l'incrocio dei pali al trentesimo. E con la verticalizzazione per Dalmonte al cinquantatreesimo ma Colombi dice di no. Una ripresa in cui il Carpi avrebbe la chance di chiudere i conti con il contropiede di Carletti, sprecone al punto giusto. Il Cesena invece va vicino al gol solo con un colpo di testa out di Moncini su cross di vita alla mezz'ora. Si arriva così al novantaduesimo quando l'asse vita-Moncini genera anche l'autorete di Brosco per il 2-1. Troppo tardi però per un Cesena che non avrà più opportunità di pareggio e che se ne torna a casa da Carpi a mani vuote.